Allora, possiamo disturbarvi? Allora, partiamo con le realtà cilentane, ospiti di questo evento, Alfonso Roto, naturalmente non poteva mancare. Sì, buongiorno, buongiorno. Certamente noi collaboriamo con Plalet da diversi anni, ci fanno un ottimo lavoro e quindi è con piacere che siamo qui a questa manifestazione per far degustare i nostri vini. Li presentiamo? Sì, allora qui abbiamo portato le ghiandaie che è il nostro aglianico, quello di cui vendiamo più bottiglie, aglianico 100% che proviene da tre vigneti di nostra proprietà. Poi c'è il rose d'autunno che è un rose di aglianico, vinificato in bianco, anche questo proviene dagli stessi tre vigneti. E poi il San Matteo che è il vino più diffuso per il fatto che si vende specialmente d'estate, ovviamente da noi d'estate la popolazione aumenta a dismisura e quindi piano 100%.